mira il tuo popolo o bella signora ma no la salve ma lei esattamente cos'è una teosofa una prana una chiaroveggente siamo gemelle io e anemone non monozigote per fortuna ognuna ha avuto il proprio ovulo ortenzia è affetta da irsutismo idiopatico costituzionale praticamente una lontra mia sorella è completamente fulminata ha continui attacchi narcolettici no no non sta dormendo orti dai esci dai che mamma è già ubriaca e papi sta già cantando la scrisma sorti ma no la io vado tutti i santi giorni dalla mia analista lucianella tabù per questi ricordini di merda bacterofobia eh ce l'ho brontofobia mi manca ehm turofobia doppione è il nostro passatempo preferito ma no la la sera quando ci stringiamo nel lettone io faccio a orti il gazzettino fobico e lei si ciuccia la luce tutta contenta buon compleanno anemone novecento buon compleanno hortensia novecento buon compleanno anima mia buon compleanno